Torniamo in diretta ragazzi su Punchliners, io sono Mr. Tink, abbiamo appena ascoltato l'ultimo disco di Blebla con, lo dico alla Toscana, il Mi Rap è un gran casino, 15 canzoni veramente, veramente fighissime, e che dire ragazzi, io sono molto contento, ormai la puntata è giunta al termine, siamo ormai nelle fasi conclusive, vi invito a riascoltarci ovviamente settimana prossima, oppure perché no, riascoltateci nel prossimo album. Grazie a tutti.